cari amici bentornati su mirado di rado video in cui vi parlo della differenza tra combinazione rasoio efficace lametta dolce e contrario rasoio dolce lametta efficace è una domanda che in tanti si pongono che in tanti mi pongono e mi piace mi piacerebbe appunto dare il mio punto di vista alla luce di questo periodo di rasatura tradizionale questo anno e mezzo abbondante di rasatura tradizionale ne ho variati diversi di rasoio avendo il canale naturalmente c'è bisogno di variare se non avessi avuto il canale magari sarei rimasto con pochi strumenti comunque io in questo periodo ho utilizzato rasoi molto efficaci con lame anche molto dalla reputazione molto importante lame considerate molto affilate quali le cai e le feder con rasoi come anche r41 ok r41 e feder è una combinazione che solo a sentirla nominare sembra il demonio poi in realtà magari si è effettivamente efficace però se ben dosata può dare delle grandi soddisfazioni non ho mai avuto problemi di irritazione con questa combinazione utilizzando prodotti di ogni tipo però c'è un però io con quella combinazione lì ho sempre il mio livello di attenzione al massimo non sono rilassato certo un minimo di attenzione bisogna sempre aver concentrati su quello che sta facendo però lì proprio sono in allerta e allora vale la pena essere in allerta durante la rasatura a mio parere no quindi invece di optare per una belva armata piano è meglio optare a mio modesto avviso per un rasoio più delicato ma con una lama che sia adatta al nostro viso a molto affilata più ricoperta o che sia questo siamo noi a deciderlo ma sicuramente un rasoio più delicato ci permette con la giusta tecnica di avere un ottimo risultato con una soglia di allarme riportata alla normalità quindi io di certo farei questa considerazione ora uso due lamette per armare due diversi rasoi e uso due sono dritte due tiger che più che per fare i video io non utilizzo ok quindi vado ad armare due rasoi poi vi mostro quali sono questi rasoi allora vado col primo potevo armarli già prima però vabbè sciagurato sempre a finire che mi taglio adesso mi taglio le dita la mette che non taglia in una mazza ma quando devono far male magari ecco qui che mi devo ricordare però che ho armato i rasoi perché non è che poi mi devo far male durante il video allora primo rasoio armato secondo rasoio mi appresto a farlo chissà se dal rumore non lo riconoscete già dal rumore se si sente chissà se si sente il rumore del suo serraggio avete già capito di che belva sto parlando probabilmente allora ecco i due rasoi ecco la bel baccia il mercur futur 700 e il timor 13 50 55 vabbè comunque il gis e non forst of che io non marchiato timor però è quello che mi ha prestato mauro durante allora guardate il gap del timor gap spero si veda molto basso che è un gap tranquillo gap di questa belva qualcosa di mostruoso ora anche la regolazione più bassa è maggiore rispetto a questo ok certo adesso io ho messo in campo un animale praticamente ho messo in campo un carro armato però e adesso sposto la lametta su un altro rasoio non serve tirare in ballo per forza il mercur futur possiamo tirare in ballo anche lo squalo r41 che qualcuno mi dice ma io non vedo un gap molto pronunciato che gli open com sono un po così no gli open com hanno questa caratteristica che sembra che la lametta sia a gap 0 sembra che sia a gap 0 quando andiamo a vederlo vedete poggia proprio sui denti ma in realtà non è così in realtà i denti sono in discesa e quindi sì non è un open come un ibrido vabbè però diciamo che il suo approccio al viso ed open com quindi la lametta è proprio veramente esposta è proprio lì il filo è presente è libero disarmo che sennò rischio veramente di tagliarmi che mi dimentico poi che ci sono delle lame dentro i rasoi ed è un casino quindi la differenza che c'è tra una lametta molto affilata è una lametta molto ricoperta è minore della differenza che c'è tra una geometria con gap elevato e una con gap minore proprio perché mentre la differenza che c'è tra queste due lamette cai e derby risaputo la cai molto affilata la derby molto ricoperta è una differenza minore il tagliente è sempre quello cioè l'affilatura per quanto possa essere con un cuneo minore o maggiore quindi magari più o meno affilata mai un tagliente la differenza è minore rispetto a quella che passa tra due gap che possono essere uno il contrario dell'altro quindi il timor molto leggero e il mercur futur ad esempio molto pronunciato quindi un rasoio col gap molto elevato molto alto è una lametta più delicata comunque il gap mi può creare problemi un rasoio con un gap tranquillo basso posso decidere io di andare a regolare un po la sua efficacia cambiando lametta in funzione della mia barba in funzione del mio verso di crescita mio stile di rasature della mia mano un gap elevato mi mette molto più a disagio per lo meno a me ecco perché preferisco per una natura quotidiana poi è chiaro che in video per il canale uno magari prova con un rasoio un po più aggressivo ci sono tonsori che si radono con intranquillità con questa bestia messa a e non hanno problemi io stesso l'ho fatto quando l'ho usato in versione cromata in prestito da ma da massimo e non è andata male fondamentalmente l'ho armato piano con una croma quindi armato molto piano è andata bene quindi però non devo avere questo tipo di stress questo tipo di attenzione io con quello sono andato veramente molto cauto vorrei essere più rilassato per questo motivo preferisco un rasoio più delicato e la possibilità di metterci dentro una cai io per esempio questa combinazione avete avete visto ve lo ve l'ho mostrata questa timor e cai qualcosa di impressionante mi è piaciuta tantissimo e per tutti i giorni secondo me è perfetta ok sembra di aver detto tutto forse anche troppo io poi mi ripeto sono ridondante in alcuni casi ma perdonatemi la deformazione professionale ribadire 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 ripetita juvent però in realtà certe volte può essere noioso ma nel caso in cui vi trovaste con altre idee con altre considerazioni fatemelo sapere nei commenti ne parliamo insieme magari ne possiamo anche discutere in live perché no giovedì come sempre l'appuntamento in diretta e poi sabato per una nuova sbarbata in premiere quindi con chat annessa ancora grazie un abbraccio a tutti alla prossima ciao da manuel ed ammirato di rado